La melodia delle parole presenta La fiera della vanità di William H. Tuckery Capitolo 26 Tra Londra e Chatham La Chatham Brighton, il nostro amico George, come si addice ad una persona del suo rango e della sua eleganza che viaggi a bordo di un tiro a quattro, scese in pompa magna in un ottimo albergo di Cavendish Square, dove uno splendido appartamento di numerose camere e una tavola apparecchiata con magnifica argenteria, servita da uno stuolo di domestici neri e silenziosi, erano pronti a ricevere il giovane Mr. Osborne e consorte. George, con arie e modi principeschi, fece gli onori di casa a Joss e a Dobbin, mentre Amelia, per la prima volta e con soverchio imbarazzo e timidezza, presiedeva a quella tavolata che George aveva definito degna di lei. George criticò il vino e fece osservazioni ai domestici con aria regale, mentre Joss, con palese soddisfazione, si ingozzava di zuppa di tartaruga e Dobbin lo aiutava a servirsi, perché la padrona di casa, davanti alla quale era stata posata la zuppiera, manifestava la più assoluta ignoranza circa il suo contenuto, tanto che avrebbe servito Mr. Sedley senza offrirgli né Kalipash né Kalipi. La cena sontuosa e il luso dei locali nei quali veniva servita allarmarono Dobbin, il quale, concluso il pasto, fece le sue rimostranze, approfittando del fatto che Joss si era addormentato in una poltrona. Ma in vano egli protestò per l'enormità della tartaruga e la quantità dello spumante, che avrebbe figurato degnamente sulla mensa di un arcivescovo. Sono sempre stato abituato a viaggiare come un gentiluomo, disse George, e intendo che mia moglie viaggi come una signora, per Giove. Finché in cassaforte ci sarà un soldo, non le mancherà niente, concluse, compiacendosi della prova di generosità e di opulenza che stava dando. Dobbin non osò nemmeno tentare di convincerlo che la felicità di Amelia non era affidata alla zuppa di tartaruga. Dopo cena, Amelia manifestò timidamente il desiderio di andare a Fulham a salutare sua madre, permesso che George le accordò non senza brontolare. Ella, pertanto, si diresse verso l'enorme camera da letto nella quale troneggiava l'enorme tetro talamo, dove aveva dormito la sorella dell'imperatore Alessandro quando i sovrani alleati erano venuti a Londra. E tutta lieta indossò prontamente lo scialle e la cuffietta. Quando fece ritorno in sala da pranzo, George stava ancora bevendo e non palesava la minima intenzione di volersi mettere in moto. «Non vieni con me, tesoro?» gli chiese Amelia. No, quella sera il suo tesoro era impegnato. Si sarebbe occupato il domestico di trovarle una carrozza di piazza e accompagnarla a Fulham. Quando la carrozza sostò davanti all'albergo, Amelia, delusa, fece un piccolo inchino a George. In vano ne cercò due o tre volte lo sguardo. Poi, mesta in volto, scese la gradinata, seguita da Dobin che l'aiutò a salire sul veicolo, e la vide allontanarsi verso la meta prefissa. Persino il domestico si vergognò di dare l'indirizzo al cocchiere, al cospetto del personale dell'albergo, e disse che gli avrebbe dato le istruzioni del caso non appena si fossero allontanati. Dobin si avviò a piedi verso lo slaughter, dove alloggiava, e molto probabilmente pensava a come sarebbe stato piacevole viaggiare all'interno di quella carrozza, in compagnia di Mrs. Osborne. Ma evidentemente George non era dello stesso parere, perché dopo una copiosa bevuta si recò a teatro, a vedere a metà prezzo Mr. Keen, che recitava nel ruolo di Shilok. Il capitano Osborne aveva una vera passione per il teatro, ed egli stesso aveva recitato con successo parti drammatiche, in molti spettacoli allestiti nelle guarnigioni. Ormai si era fatto buio, ma Joss continuò a dormire, e si destò di soprassalto solo quando il domestico fece rumore, togliendo e vuotando le caraffe rimaste sulla tavola. Pertanto qualcuno fu inviato di nuovo a cercare una carrozza, per respedire il nostro grasso eroe a casa sua, e sotto le coltri del suo letto. Mrs. Sadley, chi oserebbe stupirsene? Si strinse al petto la figlia con affetto e slancio materno. Appena la carrozza si era fermata dinanzi al cancelletto del giardino, si era precipitata all'ingresso per dare il benvenuto alla sposina tremante e commossa. Il vecchio Mr. Clap, che, in maniche di camicia, era impegnato a regolare la siepe del giardino, si scostò allarmato. Quanto alla servetta irlandese, accorse dalla cucina e disse sorridendo, Dio vi benedica. Amelia quasi parcollava, mentre percorreva il letto e saliva la breve scalinata che portava al salottino. E che le cataratte si siano aperte, che madre e figlia abbiano pianto insieme, strettamente abbracciate, è cosa facilmente immaginabile per qualsiasi lettore, per quanto scarsamente incline al sentimentalismo. Ma quando non piangono le donne? C'è forse occasione lieta o triste, circostanza pur che sia della vita in cui non siano pronte a scoppiare in lacrime? Dopo un evento clamoroso come un matrimonio, madre e figlia hanno senza dubbio pieno diritto di dare libero sfogo a un'emozione al tempo stesso tenera e liberatoria. Ho visto, in occasione di matrimoni, donne che si detestano baciarsi quasi affettuosamente, abbracciarsi piangendo. Figuriamoci cosa accade quando si vogliono bene. In occasione del matrimonio delle figlie, una madre si sposa praticamente per la seconda volta. Per non dire dei sentimenti ultramaterni delle nonne, anzi, si può affermare che una donna, prima di diventare nonna, spesso ignora cosa significhi essere madre. Rispettiamo dunque l'intimità di Mrs. Sadley e di Amelia, che nella penombra del salotto ridono, piangono, bisbigliano, si inghiozzano. E a tale rispetto si attenne anche il vecchio Mr. Sadley. Non aveva indovinato chi recasse la carrozza di piazza fermatasi davanti al cancelletto. Non era corso incontro alla figlia, sebbene l'avesse baciata molto affettuosamente quando era entrata nel salotto, dove di consueto trafficava con le sue scartoffie, le sue fettucce e i suoi estratti conto. E dopo essersi brevemente intrattenuto con le due donne, saviamente le aveva lasciate a tu per tu. Frattanto il domestico di George squadrava dall'alto in basso il povero Mr. Clap, che, in maniche di camicia, ora annaffiava le sue rose. Non di meno si degnò di togliersi il cappello al cospetto di Mr. Sadley, il quale chiese notizie di suo genero e si informò sulla carrozza di Joss e sui cavalli. Erano stati portati a Brighton? Oltre che su quel maledetto traditore di buona parte e sulla guerra. Finché comparve la servetta, con un piatto ed una bottiglia di vino. E il vecchio volle a tutti i costi che il domestico ne bevesse. Gli diede anche una mezza ghinea, che quello si cacciò in tasca con un misto di stupore e di disprezzo. Alla salute del vostro padrone e della vostra padrona, Trotter, disse Mr. Sadley. Ed eccovi qualcosa per bere alla vostra salute quando sarete tornato a casa. Erano trascorsi solo nove giorni, da quando Amelia aveva lasciato quella piccola casa. Eppure quel momento del distacco le sembrava già così lontano. Quale voragine si era spalancata fra lei e la sua vita di un tempo? Dalla sua presente condizione poteva volgersi a contemplare, quasi si fosse trattato di un'altra persona, la fanciulla assorta nel suo amore, che aveva occhi solo per una sola persona, e accettava l'affetto dei suoi genitori, non dirò con ingratitudine, ma come qualcosa che le fosse dovuto, mentre il suo cuore e la sua mente erano ciecamente rivolti al raggiungimento di quella meta tanto desiderata. Il ricordo di quei giorni, al tempo stesso vicini e lontani, suscitavano in lei un sentimento di vergogna, e la vista dei diletti genitori la colmò di tenerezza e di rimorso. Quella meta, quell'invocato a prodo, erano stati raggiunti. Come mai allora Amelia era perplessa e insoddisfatta? Di solito, quando l'eroe e l'eroina del romanzo sono giunti al matrimonio, l'autore cala il sipario, come se la commedia fosse terminata, come se i dubbi, come se le lotte della vita avessero cessato di esistere, come se una volta sbarcati sull'agoniato lido nuziale vi si trovassero solo fiori e piaceri, come se marito e moglie non avessero altro da fare che prendersi a braccetto e dolcemente incamminarsi verso la vecchiaia, in perpetua serenità e letizia. Ma la nostra piccola Amelia aveva appena messo piede sulle rive di quella nuova contrada e già si volgeva a guardare le melanconiche figure amiche che le dicevano addio dalla lontana opposta sponda. La madre vuole celebrare il ritorno della giovane sposa non so con quali insoliti festeggiamenti. Dopo lo scambio delle prime frenetiche battute di conversazione, prese momentaneo congedo da Mrs. Osborne e scomparve nei sotterranei recessi della casa, in una stanza che fungeva al tempo stesso da cucina e tinello, e solitamente serviva a Mr. e Mrs. Clapp, oltre che a Miss Flanagan, la cameriera irlandese, quando la sera aveva terminato di rigovernare e si era tolta i diavolini dai capelli. Qui diede le opportune disposizioni perché fosse preparata una ricca merenda. Ognuno manifesta a modo suo la propria gentilezza d'animo, e Mrs. Sedley, che pensava che biscottini e marmellata d'arance, servita in piattini di cristallo scanalato, costituissero una sciolvere pienamente intonato alla nuova condizione di Amelia. Mentre al piano di sotto venivano preparate queste leccornie, Amelia salì al piano superiore, e senza quasi rendersene conto, si ritrovò da prima nella piccola stanza che aveva occupato fino al giorno delle nozze, poi nella poltroncina dove aveva trascorso tante ore, immersa nella più profonda mestizia. Si lasciò dunque cadere tra le braccia di quella vecchia amica, e prese a meditare sulle settimane trascorse, a ricamare ipotesi sul suo futuro. Quale destino era mai toccato a quell'innocente creatura che si aggirava in difesa e sperduta tra l'immensa turba ostile della fiera della vanità? Quella di rivangare il passato con un sentimento misto di incertezza e di melanconia, di continuare a desiderare qualcosa che, pur ottenuta, anziché recarle gioia, alimentava in lei dubbi e tristezza. Qui indugiò seduta, rievocando la visione di Giorgio inginocchiato dinanzi a lei prima del matrimonio. Ebbe forse l'ardire di confessare a se stessa che l'uomo da lei sposato era nella realtà diverso dal baldanzoso e avvenente eroe che era stato oggetto della sua cieca adorazione? Occorrono anni e anni, e bisogna che l'uomo sia veramente scellerato perché l'orgoglio e la vanità di una donna le consentano di pervenire ad una simile confessione. Poi, davanti a lei, balenarono gli scintillanti occhi verdi e il maligno sorrisetto di Rebecca, e la colmarono di un'improvvisa ansietà. Pertanto rimase a lungo in preda a quella solitaria meditazione, nello stesso atteggiamento di malinconica apprensione, in cui l'aveva sorpresa la servetta, il giorno in cui le aveva recapitato la lettera di Giorgio, nella quale il giovane le rinnovava la sua richiesta di matrimonio. Il suo occhio si posò sul candido lettino, nel quale aveva dormito fino a pochi giorni addietro, e pensò che le sarebbe piaciuto dormirvi quella notte, svegliarsi come allora, salutata dal sorriso di sua madre. E subito dopo le si parò dinanzi l'immagine funerea dell'immenso letto col baldacchino che la tendeva nella sua camera d'albergo in Cavendish Square. Caro lettino bianco, quante lunghe notti aveva trascorso piangendo su quel guanciale. Quante volte vi aveva dato sfogo alla sua disperazione, augurandosi di morirvi. Ed ora non aveva ottenuto ciò che voleva. Non aveva fatto suo per sempre l'uomo amato, dopo aver creduto per tanto tempo di averlo perduto. Cara mamma, quante volte aveva vegliato, affettuosa e paziente, a quel capezzale. Andò a inginocchiarsi accanto a quel letto, e alla fine la sua anima ferita e timorosa, ma buona e gentile, cercò conforto là dove, conviene ammetterlo, la nostra piccola amica lo aveva raramente cercato. Fino a quel giorno la sua fede si era identificata con l'amore. Ora il suo cuore mesto, deluso, sanguinante, cominciò a sentire il bisogno di un altro consolatore. Abbiamo forse il diritto di ripetere o di ascoltare le sue preghiere? Queste, fratello, sono segrete. Escono dai confini della fiera della vanità, nel cui alveo si svolge la nostra storia. Non di meno possiamo dire che quando finalmente annunciarono il tè, Amelia scese assai riconfortata. Aveva cessato di meditare tristemente sulla sua sorte, di pensare all'indifferenza di George o agli occhi di Rebecca, come invece le era accaduto così spesso nei giorni testè trascorsi. Scese dunque da basso, baciò entrambi i genitori e conversò animatamente col povero vecchio, rendendolo allegro come non lo era stato da molti e molti giorni. Sedette al pianoforte con Peratole da Dobbin e cantò tutte le canzoni che il padre prediligeva. Disse che il tè era squisito e lodò il gusto col quale la marmellata di arance era stata disposta nei piattini di cristallo. Aveva deciso di rendere tutti felici e scoprì di esserlo lei stessa. Più tardi si addormentò profondamente sotto il funereo baldacchino e quando George tornò dal teatro si svegliò con un sorriso. L'indomani George aveva da sbrigare affari assai più importanti di quelli che lo avevano spinto ad andare a teatro a vedere recitare Mr. Keen nel ruolo di Shilock. Infatti appena giunto a Londra aveva scritto una lettera ai legali di suo padre, esternando il regale piacere di avere un abboccamento con loro la mattina successiva. Il conto dell'albergo, le partite a carte e a biliardo col capitano Crowley avevano quasi prosciugato il portafoglio del giovanotto, il quale intendeva riempirlo prima di mettersi in viaggio e non aveva altro cespite al di fuori delle duemila sterline che gli avvocati avevano ricevuto disposizione di pagargli. Nel suo intimo si sentiva fermamente convinto che suo padre avrebbe ceduto entro breve termine. Come avrebbe potuto un genitore perseverare in un atteggiamento tanto spietato nei confronti di un figlio meraviglioso come lui? E se per caso le sue benemerenze presenti e passate non fossero valse ad ammansire il padre, George decise che si sarebbe distinto in modo così clamoroso, durante l'imminente campagna di guerra, che senza dubbio il vecchio sarebbe stato costretto a cedere. E in caso contrario? Bah, aveva tutta la vita davanti a sé. Chissà che, giocando a carte, non cominciasse a vincere anziché perdere. E poi duemila sterline erano pur sempre una discreta sommetta. Pertanto mandò di nuovo Amelia da sua madre in carrozza e accordò piena libertà alle due signore di comprare tutto quanto poteva servire all'abbigliamento di una signora del rango di Mrs. George Osborne, in procinto di recarsi all'estero. Avevano una sola giornata per fare le loro commissioni. E' quindi facile immaginare che quelle incombenze assorbirono tutto il loro tempo. Di nuovo in una carrozza, passando dalla modista al negozio di telerie, scortata alla carrozza da commessi ossequiosi o garbati proprietari di botteghe. Mrs. Sedley aveva l'illusione di essere tornata a quella di un tempo, e per la prima volta da quando la sventura si era abbattuta su di loro, visse qualche ora di perfetta felicità. Del resto anche Amelia non mancò di gustare il piacere di scegliere, contrattare, comprare belle cose. Quale uomo, anche il più filosofo, darebbe due soldi per una donna che li disdegnasse. Lì già alle disposizioni del marito non si curò certo di risparmiare, e acquistò parecchi vestiti, dando prova, come le dissero i negozianti, di buon gusto e a corta eleganza nelle sue scelte. Quella guerra prossima a scoppiare non era motivo di seria preoccupazione per Mrs. Osborne. Buona parte sarebbe stato sconfitto senza necessità di ingaggiare una dura lotta. Ogni giorno salpavano da margate navi cariche di uomini, e signore dell'alta società, diretti a Gand e a Bruxelles. Non si trattava di prender parte alla campagna, ma semplicemente di intraprendere un viaggio alla moda. I giornali sbeffeggiavano quel cialtrone avventuriero. Quel pezzente corso aveva l'ardire di sfidare gli eserciti di tutta Europa e il genio dell'immortale Wellington. Amelia lo disprezzava senza remissione. Inutile precisare che quella dolce, gentile creatura faceva proprie le opinioni delle persone che la circondavano, giacché la sua modestia e il suo temperamento schivo le impedivano di ragionare con la sua testa. Stavamo dunque dicendo che Amelia, scortata da sua madre, dedicò l'intera giornata alle compere, e quantunque si trattasse della sua prima incursione nel mondo dell'eleganza londinese, diede prova di adeguate dignità e disinvoltura. George, nel frattempo, si avviò verso Bedford Roo, sporgendo i gomiti in fuori e col cappello sulle ventitré, ed entrò nell'ufficio legale con l'aria di chi si crede il padrone di tutti quegli smunti travetti che vi scribecchiavano. In tono di altezzosa sufficienza, ordinò ad uno di costoro di avvisare Mr. Higgs, che il capitano Osborne stava aspettando. Come se quel pechin di un avvocato, che aveva tre volte più cervello di lui, cinquanta volte più denaro e mille volte più esperienza, fosse stato un umilissimo lacché, pronto a interrompere all'istante le sue occupazioni in omaggio ai comodi del signor capitano. Quest'ultimo non si accorse dei risolini ironici che tutti si scambiarono nella stanza, dal primo sostituto del legale ai giovani di studio, ed ai giovani di studio ai modestissimi scrivani, e dagli scrivani agli smonti fattorini nelle loro misere giacche troppo strette, mentre lui sedeva battendo lo stivale col bastone e pensando che quei poveracci erano proprio un mucchio di miserabili. In realtà quei poveracci conoscevano per filo e per segno la sua situazione, e la sera egli costituiva per loro un argomento di conversazione, allorché si ritrovavano seduti al circolo con altri giovani di studio e altri scrivani davanti ad un boccale di birra. Dei dell'Olimpo, quante e quali cose sanno gli avvocati di Londra e i loro giovani di studio? Nulla sfugge al loro occhio indagatore, e sono loro a guidare silenziosamente i destini della city. Non è escluso che George, barcando la soglia dello studio di Mr. X, sperasse che il padre lo avesse incaricato di giungere ad una transazione, o addirittura ad una riconciliazione, o forse il legale aveva assunto quell'espressione fredda e altera per dar prova del suo coraggio e della sua determinazione. Fatto sta che Mr. X oppose all'albagia di George una gelida indifferenza, che fece naufragare nel nulla la ridicola presunzione del capitano. Quando George entrò nel suo studio, l'avvocato finse di essere impegnato a scrivere. «Prego, accomodatevi», disse. «Tra un minuto mi occuperò della vostra faccenduola. Per favore, Mr. Poe, prendete la pratica col benestare». Dopodiché riprese a scrivere. Quando Poe ebbe preso l'incartamento, il suo principale calcolò l'ammontare delle duemila sterline di azioni alla quotazione giornaliera. Poi chiese ad Osborne se desiderava la somma in un assegno presso una banca, o se invece preferiva delle azioni. «Uno degli esecutori testamentari della defunta Mrs. Osborne è fuori città», disse con indifferenza. «Ma il mio cliente desidera venire incontro ai vostri desideri e venire a capo di questa faccenda nel più breve tempo possibile». «Fatemi un assegno», rispose il capitano, con espressione cupa. «E lasciate perdere quei maledetti spiccioli», aggiunse, vedendo che il legale stava calcolando la cifra esatta fino all'ultima monetina. Poi, compiacendosi di credere che quel gesto di liberalità avesse costretto quel vecchio eccentrico a vergognarsi, uscì impettito dall'ufficio con l'assegno in tasca. «Quello nel giro di due anni finirà in galera», disse Mr. X a Mr. Poe. «Non credete che il vecchio Osborne finirà per smuoversi?» «E voi credete che il monument si smuoverà?», gli rispose Mr. X. «Con le donne si dà da fare», disse l'impiegato. «Si è sposato da una settimana appena e l'ho veduto mentre accompagnava la sua carrozza a Mrs. Egilfer dopo la recita, insieme con altri ufficiali. Dopodiché venne tirata fuori un'altra pratica e Mr. George Osborne fu cancellato completamente dalla mente di quei degni personaggi. L'assegno era depositato presso la banca dei nostri amici Hallock & Bullock, in Lombard Street, dove, sempre convinto di occuparsi di affari, George diresse i suoi passi e riscosse il denaro. Quando George entrò, Mr. Frederick Bullock, la cui faccia giallognola emergeva al di sopra di quella di un misero scribacchino, piegato in due su un libro mastro, per combinazione si trovava nella banca. Nel vedere il capitano, la faccia giallognola assunse una colorazione ancora più cadaverica, e il nostro banchiere sgattaiolò prontamente in un locale retrostante. Quasi si sentisse colpevole. Ma George era troppo occupato a contemplare con occhi avidi il denaro. Non aveva mai visto una somma come quella prima di allora, per accorgersi dell'aspetto, o per notare la fuga, del cadaverico promesso sposo di sua sorella. Frederick Bullock riferì al vecchio Osborne della comparsa di suo figlio in banca e del suo comportamento. È entrato e ha chiesto tutto fino all'ultimo scellino. Che faccia di bronzo? Disse. Quanto tempo potranno durare ad un tipo simile poche centinaia di sterline? Osborne giurò che non gli importava un fico di come e di quando le avrebbe spese. Ora Fred cenava tutte le sere in Russell Square. Dal canto suo George era soddisfattissimo dell'esito di quella giornata. Diede ordine che il suo bagaglio personale e il suo equipaggiamento venissero preparati senza indugio, e pagò tutti gli acquisti di Amelia mediante l'emissione di assegni sul proprio conto corrente, con la munificenza di un pari del regno.